Buonasera a tutti, sono Barbara dell'Associazione Orbitando, benvenuti alle nostre storie tra le stelle. Oggi vi parlerò di un pianeta, il pianeta rosso, quindi qualcuno di voi ha già capito, oggi parleremo di Marte. Marte appunto dà questo colore che lo differenzia da tutti gli altri, ma perché ha questo colore? Perché sulla sua superficie è presente l'ossido di ferro, cioè praticamente la ruggine, quindi è presente in larghissima misura e quindi gli dà proprio questo colorito arancione rossastro. Allora Marte è uno dei pianeti rocciosi insieme a Mercurio, Venere e la Terra ed è diciamo il quarto in ordine di distanza dal Sole. Come dimensioni è circa la metà della Terra, però ha la durata del giorno molto simile al nostro, infatti sono 24 ore qualcosina in più e poi ruota intorno al Sole in 687 giorni, quindi quasi il doppio rispetto a noi, però all'asse inclinato come il nostro, qualche grado di differenza e quindi questo gli permette di avere le quattro stagioni, come da noi. Da considerare che da noi le quattro stagioni durano tre mesi ciascuna e sono scandite dai quinozi e solstizi, mentre invece su Marte questo non esiste, su Marte ci sono praticamente l'inverno e l'estate che durano quasi uguali come tempistiche, mentre invece l'autunno e la primavera hanno durate diverse. Ovviamente ci sono le differenze come per l'emisfero nord e l'emisfero sud, da noi adesso noi siamo in primavera e tra poco comincerà l'estate, nell'emisfero australe adesso sono in autunno e tra poco comincerà l'inverno, stessa cosa succede sul pianeta Marte, quindi differenze tra emisfero nord ed emisfero sud dovuta proprio all'inclinazione dell'asse. All'orbita di Marte diciamo che ha come punto insomma più vicino 54,6 milioni di chilometri, come punto più lontano 402 milioni di chilometri, quindi grande differenza e in media infatti la distanza si dice che 225 milioni di chilometri, quindi immaginate bene che per andare su Marte a seconda del punto dell'orbita in cui è ammesso ci mettiamo di più o di meno ad avvicinarci, un viaggio con le persone si stima che dovrebbe durare tra i 250 ai 300 giorni, quindi insomma sarebbe un viaggio molto lungo e molto complicato, si parla tanto delle missioni degli esseri umani su Marte, hanno ispirato anche tanti film, la serie tv di Elon Musk, quindi si parla molto di questo viaggio, a parte le complicazioni tecniche ma davvero anche le complicazioni umane, perché voi immaginate stare per tutti quei giorni rinchiusi in uno spazio molto piccolo con altre persone, noi lo stiamo vivendo adesso, di rimanere in casa rinchiusi e non è tanto semplice, quindi voi immaginatevi cosa può essere per degli esseri umani affrontare un viaggio così, è vero che sono persone preparate sicuramente, addestrate, però mentalmente non è semplice, quindi c'è anche oltre al problema tecnico anche il problema umano, perché ci sarebbe l'andata e anche il ritorno, quindi sarebbe un viaggio davvero lungo e complicato, senza cos'era poi tutti i problemi di salute, la gravità inferiore, quindi la mancanza, insomma le ossa che potrebbero avere problemi di osteoporosi, muscoli, eccetera eccetera, però Marte è il pianeta che conosciamo di più, perché abbiamo mandato tantissime missioni su Marte, adesso ancora c'è Opportunity, c'è Curiosity, c'è Inside, ma poi tutte le altre, il Mars, insomma ce ne sono state davvero tante, quindi diciamo che lo conosciamo molto bene, dalla prima volta che l'abbiamo visto, quando si pensava che su Marte ci fossero dei fiumi, dei laghi, invece abbiamo visto il suo aspetto desertico, ora invece lo conosciamo davvero bene, abbiamo anche scoperto che appunto su Marte c'è l'acqua, non tantissimo, ovviamente non grandi quantità, però c'è, abbiamo anche scoperto che la sua atmosfera è molto rarefatta, tant'è che se su Marte dovessero cadere le meteore, come succede da noi, perché succede anche su Marte ovviamente, mentre da noi vengono appunto bruciate dall'atmosfera, su Marte invece, essendo più rarefatta, non riesce a bruciarle del tutto e molte cadono a terra, quindi diventano meteoriti, quindi diciamo che è un pochino più pericoloso vivere su Marte, oltre che per tutti gli altri problemi, come insomma l'ossigeno che scarseggia, quindi dovremmo avere comunque qualcosa per respirare, una tuta, eccetera, eccetera. Su Marte c'è il monte più alto di tutto il sistema solare e non a caso l'hanno chiamato Olimpus, il monte Olimpo, alto pensate a 27 chilometri e poi c'è la valle marina, un gran canyon enorme, grande come tutti quanti gli Stati Uniti, quindi insomma ci sono delle forme molto particolari e poi Marte ha due satelliti, Phobos e Deimos. Phobos e Deimos sono appunto le due lune di Marte che non hanno forma regolare circolare come la nostra luna, ma hanno delle forme un po' particolari, un po' irregolari, si pensa che siano due asteroidi che appunto sono stati catturati dal pianeta e Phobos è molto particolare perché ruota molto velocemente intorno a Marte, quindi durante il giorno fa in tempo a tramontare e anche a risorgere praticamente, quindi e poi è particolare perché la forza di gravità su Phobos è molto molto piccola, pensate che per esempio se noi sulla Terra pesiamo 68 chili, su Phobos peseremmo 68 grammi, quindi immagino che tutti quanti volete trasferire là, però vi devo dire una cosa importante, Phobos lentamente si sta avvicinando a Marte e tra qualche milione di anni ci si schianterà sopra, quindi insomma magari non conviene, da questo schianto è probabile che si formino degli anelli, così come per Saturno, insomma chissà se ci sarà qualcuno per per vederlo questo. Allora Phobos e Deimos chi sono però perché questi due nomi? Sono i figli di Ares e Afrodite, Ares è il corrispondente di Marte e Afrodite è il corrispondente di Venere, perché in realtà chi è poi Marte? Marte è il dio della guerra e Marte insieme a Rea Silvia o Ilia, dipende da insomma in alcuni posti la chiamano in un modo o qualcun altro in un altro modo, hanno generato Romolo e Remo, i fondatori di Roma, tant'è che i romani adoravano Marte e infatti tra loro si chiamavano figli di Marte, però di chi era figlio Marte? Ecco è una storia un po' divertente. Allora in pratica Giunone, la compagna di Giove, la moglie di Giove, era invidiosa perché Giove aveva creato un figlio senza di lei, si racconta che Zeus ebbe una storia con Meti, però non era proprio una storia di infedeltà, perché a quanto pare Meti è stata la prima sposa di Zeus e si racconta che lui stette con Meti e poi un oracolo però gli predisse che il figlio concepito da lui e Meti l'avrebbe ucciso, quindi si racconta che lui decide di sbranarsi Meti per evitare che concepisse il figlio, allora lei chiese di trasformarsi in una goccia d'acqua per bersela, lo fece, però il problema è che nella testa si sentiva la voce di Meti per giorni e giorni, quindi la sua testa stava per esplodere, e si racconta che arrivò Prometeo e gliela spacco in due e quindi dalla ferita uscì Minerva, sua figlia. Allora Giunone, diciamo invidiosa di questa storia, decide di creare un figlio da sola e per farlo chiese l'aiuto di Flora, la dea dei fiori in pratica, e Flora le disse che c'era un fiore che praticamente poteva creare da solo un figlio, cioè Minerva, scusate Giunone a contatto con questo fiore avrebbe potuto creare un figlio senza bisogno di un uomo, ecco, quindi Giunone si avvicinò a questo fiore e da questo contatto nacque appunto Marte, quindi Marte è figlio solo di Giunone, e che cosa fece Giunone lo affidò a, scusate, questa cosa fa ridere, a Priapo, per farlo, insomma, per farlo crescere da lui. E chi era Priapo? Allora Priapo era conosciuto ed è famoso per le dimensioni molto grandi di un organo del suo corpo, ok? E quindi insomma lui crebbe Marte e gli insegnò appunto le doti di combattente. Piccolo particolare, come vi dicevo all'inizio, Marte era il corrispondente di Ares, ed era innamorato di Venere, che era il corrispondente di Afrodite, quindi Ares e Afrodite, Marte e Venere. E loro appunto crearono Fogo e Deimos, e si racconta che insomma la loro storia d'amore è molto bella, sono due amanti bellissimi, e infatti quando capitano le congiunzioni tra Marte e Giove, come è già successo, che sono davvero avvicinati tantissimo, insomma tutti sono, è sempre una delle congiunzioni più belle anche rispetto alle altre, perché si dice il bacio tra Marte e Venere, proprio perché sono due innamorati e quando si avvicinano sembra quasi che i due si ricongiungano. Chissà quando vedremo la prossima. Intanto vi ricordo sempre che Marte si vede in questo periodo insomma poco prima dell'alba, insomma già dalle 4 del mattino riusciamo a vederlo, e quindi insomma per chi si alza presto sicuramente lo riconoscerà dal suo colorito rossastro. Per adesso vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro noti stellate. A presto!